Numerose lettere inviate all'amministrazione comunale, precedente ed attuale, al fine di intervenire per rendere una zona di gela praticabile. Tante le richieste avanzate, ma al momento attuale nessuna risposta. Ci troviamo in via Recanati. Una parte di strada è asfaltata, l'altra no. E quando piove le abitazioni che insistono al piano terra vengono inondate d'acqua. E non solo, la zona è piena di insetti e ratti. Ancora oggi abbiamo una rete idrica, che è un colabroto, che si possono vedere alcune perdite che sono state condivide con l'acqua per farle riparare e nessuno si vede. La rete fognaria è una rete fognaria fatta pure da 40 anni, sempre privatamente. Tante verga con l'acqua, spesso e continuo, vengono degli autospurghi per spurgare proprio questa linea. È impossibile venire in queste zone e io mi chiedo com'è possibile che quasi alle porte del 2020, ancora in città, esistano queste strade. Vorrei un attimo una presa di coscienza dai nostri dirigenti, dai nostri sindaco e tutta via a scendere. Com'è possibile ancora che la gente vivere in queste condizioni? Però pagano che tasse. Parliamo di una strada comunale, anche se sembriamo in aperta campagna. Io invito queste persone per la seconda volta, per la terza volta, per quello che è, se loro si mettono la mano della coscienza e diciamo guarda che noi dopo domani facciamo le cose, però dopo domani, non che mi dicono il giorno, l'ora, però l'anno non lo so, non lo sappiamo ancora l'anno. Ora, speriamo che oggi il telegiornale se lo sente qualcuno che è responsabile veramente e dice guarda, diamo un bugno a questa cosa di qua.